La squadra mobile ha denunciato e stato di libertà un nisseno di 19 anni per furto aggravato commesso nel luglio scorso all'interno di un'abitazione sita nel capoluogo. In particolare, in via Gentile, dopo aver frantumato un vetro di un balcone, il giovane si sarebbe introdotto all'interno dell'appartamento, dove dopo aver rovestato tutte le stanze, si sarebbe impossessato di un tablet, un pc portatile, orologi e vari preziosi. Durante la fuga, il 19enne avrebbe perso un sacchetto contenente preziosi che venivano recuperati dagli agenti e restituiti al legittimo proprietario. Dalle comparazioni delle impronte, i poliziotti risalivano al giovane.